Ci risiamo! Dopo due anni dall'ultima volta abbiamo fatto un altro weekend lunghissimo in moto in Austria. Sono cambiate tante cose da due anni fa e cambiato tanto rispetto ai primi cinque mesi da quando avevo fatto la sleeve. Quattro giorni e 1500 km in Austria, ma come ci si regola dopo aver fatto una sleeve o un intervento di chirurgia bariatrica? Vediamolo! Sono stato obeso per vent'anni, ma due anni fa mi sono sottoposto a un intervento di chirurgia bariatrica. Ho battuto obesità, diabete, ipertensione, aprile notturne e molto 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 altro. Da allora faccio questi video per aiutare altri a trovare la loro strada e guarire dall'obesità. Supporta questo progetto, iscriviti al canale, lascia i like e i tuoi commenti, ma soprattutto condividi questi video su tutti i tuoi canali social. Insomma, 1500 km in quattro giorni, attraverso quanti più passi di montagna possibili per fare quanta più strada meravigliosa possibile in moto. Ma con dei ritmi del genere, come ci si regola con le nuove regole di una persona operata di chirurgia bariatrica? Spuntini, bere fuori dei pasti, mangiare le cose giuste, insomma, si può fare. Due anni fa partimmo per un viaggio simile a questo, in tutto e per tutto. Ero operato da soli cinque mesi e avevo tanti dubbi su come avrei potuto affrontare un viaggio del genere. Ho fatto un video che troverete più o meno qui, se volete andarlo a vedere, è una cosa di due anni fa. Vediamo come sono cambiate le cose e che cosa ho trovato di diverso dopo due anni. L'acqua. Bere fuori dei pasti è fondamentale. Non si beve ai pasti, si deve bere fuori, ma se quando sei fuori dei pasti sei occupato a guidare la moto, per lunghe tratte potrebbe diventare un problema. Due anni fa, quando ho fatto la prima volta questo viaggio e quando abbiamo fatto le prime moto vacanze, è stato veramente un problema, perché dovevo assolutamente fermarmi per bere, perché sennò rischiavo proprio di star male. Dovevamo starci proprio attenti, perché non ci veniva così spontaneo e dovevamo fare praticamente delle pause ogni ora per bere e riposarci un attimo. Oggi, a due anni di distanza, il bere fuori dal pasto è diventato una cosa talmente naturale e automatica per me che non ho più bisogno di pensare a dovermi fermare per bere, ma semplicemente mi fermo e bevo. Le pause sono diventate un pochino più lunghe, per cui magari guidiamo per un paio d'ore e poi ci fermiamo per fare una pausetta, bere e fare quello che dobbiamo fare. È molto più naturale, ma bere è fondamentale. Se non si beve la quantità giusta di acqua, si sta male. Oggi, a due anni e mezzo dall'intervento, se mi capita di dover bere durante il pasto, lo riesco a fare senza grossi problemi, anche se mi rendo conto che il pasto diventa, passatemi il termine, più pesante. Se non bevo i pasti, mangio meglio, mi sento in generale un pochino meglio. Quindi, se lo devo fare, bevo durante un pasto, un bicchiere, un bicchiere e mezzo, eh. Ma se riesco a non farlo, come normalmente è, meglio, molto meglio. Gli spuntini. Li ho odiati per tutta la mia vita. Da quando ero bambino fino al giorno della sleeve, io gli spuntini non li ho mai fatti, non li ho mai voluti fare e li ho sempre odiati. Oggi li adoro perché mi rendo conto che mi hanno aiutato e mi aiutano quotidianamente a gestire in modo corretto la quantità di energie che ho a disposizione durante la giornata. Mi aiutano a non arrivare mai famelico a tavola e quindi vivere gli spuntini. Cosa significa? Metà mattina, metà pomeriggio, lì ognuno deve trovare il suo equilibrio, la distanza giusta fra la colazione e il pranzo, e fra il pranzo e la cena, è necessario, fondamentale, mangiare qualcosa. Io tipicamente, fra due ore e mezza o tre dalla colazione, sento il bisogno di fare lo spuntino, mangio qualche cosa e mi permette di arrivare al pasto successivo, o al pranzo, senza fame, o meglio. Sento che è ora di mangiare, quindi mangio volentieri, ma non mi siedo al tavolo con l'urgenza di mangiare qualcosa perché ho la glicemia bassa, ed è una cosa che succede invece a tantissime altre persone e ci frega soprattutto a chi sta lottando con l'obesità. Due anni fa, quando abbiamo fatto il primo giro, saltare uno spuntino complicava terribilmente la gestione del pasto successivo, non la rendeva impossibile, ma diventava un po' più complessa. Oggi come oggi, se per disgrazia mi capita di saltare uno spuntino, a parte che è raro, perché visto che lo spuntino ormai ho capito che mi aiuta, riesco a farlo e lo faccio volentieri e me lo ricordo, ma se proprio, 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 capita, arrivo a tavola che mi rendo conto che vorrei mangiare più in fretta, che ho proprio il bisogno di nutrirmi, ma non è la fame di quando siano obesi, è la fame di, oh ragazzi qui il serbatoio è vuoto e va riempito. E quindi diventa un po' più noioso gestire il pasto, ma si riesce a fare. Cosa succede? Non mi accorgo, mangio un po' più in fretta, mangio un po' più in fretta, mi sento molto sazio molto prima e quindi si sbilancia un pochino quella naturalità che ho trovato oggi quotidianamente nei pasti, quindi cerco di fare lo spuntino, sempre. Lo salto? Amen, se succede una volta non cambia nulla, sarà un pasto un pochino più veloce quello dopo e non va bene, ma finisce lì. Se dovessi iniziare a saltarlo regolarmente sarebbe un grosso, grosso, grosso problema. Ma questo, per fortuna, non succede. E non fatelo succedere neanche voi. Pasti? Sei in giro e in moto, su e giù per le montagne, su e giù per i passi, passi da un'altitudine di 300 metri a 2.500. Come gestisci un pasto bariatrico? Beh, due anni e mezzo fa lo gestivo senza grossi problemi, oggi non lo gestisco. Nel senso che mi siedo e quello che voglio di mangiare mangio, punto. Le quantità ovviamente sono sempre quelle da bariatrico, sicuramente sono potenzialmente volendo di più di quelle che mangiavo prima, ma fa bene così, non è un problema. Di nuovo, se è uno strappo alla regola, sono tre giorni di molto follie gastronomiche perché sei in giro e non puoi mangiare esattamente quello che bla 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 bla, non è un problema. Quando torni a casa ti rimetti a mangiare in modo normale, quindi quello che mangi sempre. No problem. Quindi sono proprio andato, cosa voglio di mangiare oggi? Questo, quello, che fosse un primo, un secondo, tendenzialmente preferisco sempre i secondi e nel 90% dei casi il mio pasto è in realtà l'antipasto. Ma se un giorno trovo qualcosa di particolare in cima a una montagna, voglia di mangiarmelo, lo mangio senza nessun problema, né di coscienza e tanto meno fisico. Tornato dai quattro giorni, pensavo di aver mangiato come un porco, perché onestamente ho mangiato tutti i giorni qualcosa di nuovo, di particolare, di buono, magari una quantità anche maggiore di quella che mangiavo a casa perché era una cosa sfiziosa, particolare, se non l'assaggio qui non l'assaggio più, pipuppà. Oh, la bilancia mi ha detto che in quei quattro giorni ero diminuito di peso, fate voi. Quindi meglio di così non poteva andare. Ovvio, non sto dicendo che dopo l'intervento mangiate quello che vorrete tutti i giorni. Vi sto dicendo che imparerete a mangiare in un modo per cui quello che avrete voglia di mangiare tutti i giorni vi farà stare bene e se capita un giorno, una settimana, in cui andate a mangiare delle cose come quantità o come qualità che non sono perfettamente adeguate, non incide sulla normalità della vostra vita. Se per un anno intero voi state a mangiare le cose normali, se capitano una settimana, due settimane, tre settimane distribuite durante l'anno in cui fate follie, non è un problema. Il problema è l'abitudine, quello che succede nel quotidiano. Non è la cosa speciale che capita raramente o occasionalmente. Il caldo. Il caldo è stato il nemico numero uno dei miei giri in moto. È stato quella cosa, dopo l'acqua, che ha reso il tornare in moto dopo la sleeve complicato. Perché? Perché il caldo non lo soffri più. Ma non è che se tu non lo soffri il caldo non c'è. Semplicemente, prima da obesi, quando c'era caldo, si soffriva tanto, si sudava tanto, saremmo andati in giro i nudi per sentire un pochino più di fresco, cercavamo ogni sprazzo d'ombra in ogni situazione, ma una volta che hai fatto la sleeve e ti togli di dosso quei 30, 40, 50, 70, 80, 100, 120 kg, perché la sleeve fa questa cosa, ti aiuta a fare questa cosa, e in tanti lo fanno, e ti trovi che il tuo rapporto col caldo cambia. Quindi i primi tempi, magari addirittura soffri un po' di freddo, ma quando trovi la tua stabilità, ti ritrovi con in mano quella cosa che io chiamo il non caldo, ovvero una tolleranza alle temperature molto più ampia di prima. Quindi anche quando gli altri dicono che hanno un caldo pazzesco, tu dici sì, sento il caldo, ma non sto soffrendo il caldo. Perché? Perché abituati a come eravamo prima, la differenza, il confronto, non ci fa dire mamma mia che caldo pazzesco. Ti fa dire fa caldo. E il problema qual è? Che tu dici fa caldo, non soffri il caldo come lo soffrivi prima, e non ti proteggerà il caldo. E questo mi ha portato, in più di una situazione, e soprattutto in moto, a rischiare di star male. Addirittura, negli anni passati, quando eravamo in giro in moto, era la fra che quando lei aveva caldo e mi diceva, cavoli, apro il giubbotto, mi devo fermare, devo togliere il casco un attimo, devo rinfrescarmi, era per me il segnale che avrei dovuto fare la stessa cosa, perché fosse stato per me, non avrei avuto bisogno di operire la giacca, far passare più aria, non avrei avuto bisogno di fermarmi per rinfrescarmi, non avrei avuto il bisogno di fare queste cose, ma il mio corpo sì, e quindi le prime volte che non l'ho fatto sono arrivato quasi al collasso da caldo. Poi ho imparato a obbedire alle indicazioni della fra, Ale fa caldo, prac, apri, Ale fa caldissimo, fermiamoci, ok? Ma non ero in grado da solo di riconoscerlo. Ora, sì, nel senso, è come prima, non soffro il caldo, ma ho imparato che quando inizi a dire oh, fa calduccio, devi mettere in atto quei meccanismi per proteggerti dal colpo di caldo. Non è stato semplice, perché non avrei mai immaginato una roba del genere, ma è necessario. Due anni e mezzo dall'intervento, finalmente sono autonomo, non ho bisogno della fra che mi dice svestiti. Vabbè. Le pause in moto. Prima, come vi dicevo, avevo bisogno di fermarmi ogni ora, perché c'era da bere, perché c'era da fare la merenda, perché c'era da gestire il caldo, il freddo, il troppo caldo, il troppo freddo, ho bevuto troppo poco, tutte queste cose qui, e ci portavano a fermarci ogni ora. È anche vero che prima, la fra era molto più fresca di patente, e su strade impegnative, come quelle che abbiamo sempre fatto, la stanchezza la sentiva di più. Lei ha fatto molta più esperienza, io ho fatto molta più strada nella gestione della mia vita da non obeso, e il risultato è che adesso ci troviamo spesso e volentieri a fare delle pause fra una tratta e l'altra, che non sono più di un'ora, ma sono di due ore, o due ore e mezza addirittura, e riusciamo a gestirle insieme al bere, allo spuntino e a tutto quello che serve per godersi un giro in moto, senza nessun problema. Ma vanno fatte, che sia in moto, che sia in qualunque altro tipo di escursione, bisogna considerare di fermarsi per i propri bisogni. Il problema è che prima della sleeve, prima di imparare a conoscere me stesso, il mio valore, il mio corpo e le mie esigenze, non mi davo neanche il diritto di potermi fermare per dei bisogni di questo tipo. Oggi so che sono cose fondamentali, non si toccano e quindi, quando è il momento, pausa, che siamo da soli o che siamo in 50, pausa. Si beve, si mangia, due chiacchiere, due foto, è anche piacevole e poi si riparte godendosi a pieno i posti, le giornate, l'escursione, gli amici e le moto. Bene, noi sogniamo il prossimo giro in moto e se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate il vostro commento, prima o poi rispondo, sono un po' lento ultimamente, ma non ho rinunciato a rispondere a tutti e fate girare questo video perché aiuta il canale a crescere, ma soprattutto aiuta queste informazioni a raggiungere qualcuno che magari ne ha veramente bisogno. Se questi video vi sono stati particolarmente utili, lasciate un super grazie o addirittura abbonatevi al canale. È un modo per supportarmi anche economicamente. Grazie a tutti e al prossimo video.